Amiche e amici di Sena TV, ben ritrovati per una nuova storia. E' una storia da raccontare. Quella che vogliamo raccontarvi oggi purtroppo è una storia triste che tutti noi stiamo vivendo, ma soprattutto sta vivendo il popolo ucraino che è martoriato da questa guerra infame. Sono momenti veramente drammatici per una popolazione pacifica, per una popolazione che chiedeva soltanto di vivere in libertà, tranquillamente, serenamente, con i propri cari, con il proprio lavoro, nella propria terra. Purtroppo la situazione è precipitata. Nei giorni scorsi siamo nel mezzo di un'azione bellica, di un'invasione da parte della Russia senza precedenti, anche se la Russia ci ha sempre abituato a questo tipo di situazioni. Vogliamo parlare di tutto questo oggi con l'ospite in studio che è venuto a trovarci, Alessandro Fanetti, che andiamo subito a presentare, che salutiamo e che ringraziamo per questa tua presenza. Con Alessandro cercheremo di fare un po' il punto della situazione ad oggi di quello che sta accadendo in Ucraina con questa azione bellica, anche perché lui ha svolto degli studi che ti hanno portato ad osservare, ad analizzare, a fare anche un po' di critica su tutto quello che avviene. Perché tu sei laureato, innanzitutto buongiorno, ciao. Ciao, grazie mille. Tu sei laureato, Alessandro? Sono laureato in Scienze Internazionali qui all'Università di Siena, poi ho avuto la possibilità di scrivere un libro sulla Russia, sulla geopolitica, sulle relazioni internazionali. E' stato un po' profetico, diciamo, perché nel giro di pochi mesi poi è scoppiata questa guerra. Ecco, allora, la guerra. Chiederei alla regia di mandare innanzitutto subito la copertina del libro. Grazie. Che mi dicevi non si trova nelle librerie, però lo si può ordinare online e lo si può ritirare anche presso il vostro negozio, perché la famiglia Fanetti, a cui appartiene Alessandro, ha una grande tradizione fotografica. Eccolo qua, Russia, alla ricerca della potenza perduta. Tu questo l'hai scritto in tempi non sospetti? Sì, questo è stato pubblicato a luglio 2021, l'anno scorso, e poi appunto sembra sia stato profetico, perché nel giro poi di sei mesi, sette mesi, è scoppiata questa guerra, inaspettata anche per certi versi. Sì, e dunque sì, si può trovare sul sito dell'editore, oppure anche al negozio da me, chiaramente delle copie. Lì in Piazza Indipendenza. Piazza Indipendenza, nel negozio storico di famiglia. Eh sì, e poi dopo ne parleremo, perché a prescindere dal fatto che anch'io per moltissimi anni, perlomeno quando non c'era ancora la fotografia digitale, sono stato un cliente affezionato di questo negozio, tantissimi bei ricordi, con i tuoi nonni, con il tuo babbo, con il tuo zio, siamo molto amici. Tra le altre cose, questo mi preme dirlo, con Andrea, che è il tuo babbo, anzi, se per cortesia possiamo cominciare a mandare un po' di fotografie che appartengono all'album di famiglia di Alessandro. Dicevo, con Andrea in particolare, mi ricordo di una bella passeggiata a Siena sotto una nevicata, o subito dopo una nevicata, nel gennaio del 1979. E ci godiamo questa Siena, Siena imbiancata ovunque, salimmo anche sul facciatone del Duomo. Ecco, qui innanzitutto vediamo Andrea al centro, con il tuo fratello, che si chiama Lorenzo. E io di qua, questa farlata è una foto anche abbastanza recente, l'abbiamo fatta in occasione dei 60 anni dell'attività. 60 anni dell'attività? 62, e il 12 febbraio 1962 è nata, e mio fratello, devo essere onesto, ha avuto la bella idea di contattare un giornale locale, e sono venuti e abbiamo fatto una piccola intervista. Raccontando quindi la vostra storia, che oggi invece raccontiamo qua in ambito anche di un'altra faccenda, di un'altra questione che comunque andremo ad analizzare. Un grado, sì. Allora, famiglia di Torraioli, diciamo così, dove soltanto un fratello ha sdirazzato perché è Dello Corno. Famiglia di Torraioli, anche mia nonna appunto è della torre, mia nonna invece è del Bruco, è nata in Viacinezzo. Allora, qui dovrebbe essere la fotografia dei tuoi avi, eccoli qua, nonno Fanetti. Sono i bisnonni. Bisnonni, bisnonni, ripresi sul tufo di piazza, con dietro i materazzi a San Martino. Esatto. Hai ricordati del tuo? No, no, dei miei bisnonni nessuno, né da parte Materna, né da parte Paterna. Qui invece vediamo i fantastici coniugi Fanetti, eh? Che te, mio nonno Sergio Fanetti e mia nonna Francesca. Camilletti, purtroppo Sergio è scomparso, vero? È scomparso. Alcuni anni fa. Invece nonna è sempre viva e visita. Eh. Sta molto bene. Una figura veramente gentile in questo negozio dove lei in maniera adorabile accoglieva la clientela e sopportava anche un pochino, tal vuota, i rimproveri del nonno Sergio che l'avrebbe voluta più tecnica. Carattere un po' irascibile. Fantasico, veramente. Da sopportare ogni tanto. No, ma comunque veramente un ricordo fantastico. Ecco, queste due foto, tra le altre cose, che rappresentano molto bene queste due figure conosciutissime a Siena, io giorni fa, passando davanti al vostro negozio, mi capita spesso, visto che abito in Piazza Antipendenza, ho visto queste due foto che le avete stampate e messe dentro una bacheca. Dovrei averci la foto di questo. Mi sono fermato, ero in macchina, ho tirato giù il finestrino e ho fatto la foto. Si vedono anche dei riflessi un po' inconsueti. Sì, sì, eccola. E francamente mi si è aperto un po' il cuore e sono andato in là con gli anni. Fa molto piacere. Sì, veramente. Mi fa piacere, non sei l'unico, devo essere onesto che lo dice, perché sono bei ricordi e hanno lasciato un segno. Hanno lasciato un bel segno e oltretutto voi, tu con il tuo fratello Gabriele, avete diviso l'attività, siete uno di fronte all'altro. Gabriele è mio zio. Ah, scusami, 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 volevo dire il fratello di Andrea. Il fratello di Andrea, sì. Sì, hanno diviso le attività. Sì, sono rimasti insieme fino al 2003, fino a che è stato mio nonno. Lì, chiaramente, poi mio nonno ha smesso giustamente dal 62 al 2003. Si è goduto un po' l'attenzione. E ha lasciato via libera i figli. Ha lasciato via libera i figli e hanno deciso, insomma, sempre in ottimi rapporti, chiaramente, però di aprire due negozi diversi. E mio nonno è sempre venuto comunque a dare una mano finché ha potuto. Certo. Sia dal punto di vista fotografico, sia dal punto di vista di muratura, perché mio nonno prima era muratore. Era muratore, eh. Esatto. E mia nonna invece è sempre venuta fino a poco tempo fa. Con un bel camice bianco. Un camice bianco. Me lo ricordo benissimo. Continuiamo a sfogliare le pagine dell'album di famiglia. Qui è il tuo babbo che è il collo alla nonna. Mia nonna, sì. Qui è piccolissimo. Che bello. Qui siamo inizio anni 60. Eccolo il muratore in azione. Il nonno Sergio è un muratore in azione. Questo è mentre mio zio apriva il negozio e mio nonno andava lì a dare una mano, insomma. Senti, com'è cambiato il mondo della fotografia, eh? Allora, io ho iniziato a lavorare lì nel 2008, quindi già eravamo entrati in piena età digitale. Però ho avuto, diciamo, racconti e poi già andavo al negozio chiaramente a vedere, a curiosare. Certo, è ripinto. Già anche nel passaggio fra la pellicola e il digitale. Il passaggio è durato due anni. E' fine. Sì, possiamo tornare un attimo indietro? Prima abbiamo visto un bel ritratto della mamma di Alessandra, nonché moglie di Andrea. Ecco qua, Sandra. Sì, sì, sì. Che salutiamo. Anche con lei abbiamo passato dei momenti molto divertenti tutti assieme, ok? Andiamo pure avanti. Ah, questa è la bella foto. No, no, mi assumo la colpa, eh? Ma comunque i nostri bravi tecnici sapranno girarla al momento opportuno. Sì, ma va bene. Questa è bellissima. Tra le altre cose è un abbraccio in un clima piuttosto artico. Un clima freddo, quindi ci stava. Sì, qui siamo nel nord Europa e insomma avevo piacere a metterla e è carina. E' caratterizzata. Lasciamola questa cosa così perché dà proprio il senso della schiettezza con il quale noi cerchiamo di raccontare queste storie. Questa è fantastica. Tra le altre cose il tuo babbo, non so se anche la tua mamma lo segue spesso, organizza proprio gite mirate ad andare a scoprire luoghi incantati come ultimamente ha fatto per l'alba boreale, vero? Esatto, sì, per l'onora boreale sono partiti, anche ora fra l'altro, è partito ieri. Ah, quindi è là in zona a godersi questo spettacolo. È arrivato in Norvegia ora, sì. Niente, insomma, praticamente c'è una, come si chiama, un'azienda che organizza tour che gli ha chiesto di fare, di dargli una mano insomma ad organizzare questi viaggi e portare dietro sia amici chiaramente sia fotografi. E questo diciamo è il viaggio che piace di più perché è un viaggio abbastanza breve, vicino, però l'albora boreale ti apre veramente un mondo incredibile. Davvero, sembra di essere lì a sognare, perché ho avuto modo di vedere anche le foto che ha fatto il tuo babbo, ma anche i vari filmati su Facebook, perché oggigiorno insomma ci possiamo godere tutto questo grazie anche ai social che imperversano. Speriamo sempre che lo facciano in maniera positiva e purtroppo ci sono anche degli aspetti molto negativi. Non so se ci sono ancora altre foto da poter seguire e commentare con Alessandro. Questo sono io, questo oramai ci si vede qua, quindi va bene. Dunque, allora, oltre a questo capitolo, a questo punto addentriamoci un po' in questa che è una storia che nessuno di noi avrebbe voluto vivere e che invece siamo costretti a dover in qualche maniera affrontare. Ma noi lo facciamo da lontano, noi lo facciamo sui notiziari, sui telegiornali, sui giornali, sui comunicati, sui servizi. Ma c'è chi lo fa veramente in prima persona, Alessandro. Sì. Ed è veramente una situazione che non è concepibile. Oggigiorno non è concepibile, eppure è reale. Ah, questo fra l'altro, questa è una foto che introduce bene anche questo argomento, perché ero in Russia a ottobre-novembre 2021, quindi ora. Ad essere onesti, non c'erano segnali di un'escalation così forte in Ucraina, anche se in realtà le relazioni Ucraina-Russia comunque sono tese da anni, a diverso tempo. E io fra l'altro ho un amico che è un professore a Leopoli, in Ucraina, bisognava sentirsi domenica, domenica mattina, quindi pochi giorni fa, e purtroppo non abbiamo avuto la possibilità, perché sono partite mezz'ora prima le sirene, le sirene perché c'erano degli attacchi aerei, e dunque è dovuto andare in un bunker, e ci siamo risentiti poi il giorno dopo, la mattina del giorno dopo, perché lui ha passato svariate ore appunto in questo bunker. Ah, certo. Sì, la situazione è tesa per una serie di motivi. Io innanzitutto ho piacere a ribadire, come hai detto te, giustamente la guerra è sempre un orrore, sempre un orrore che non ci deve essere mai. La nostra Costituzione da questo punto di vista è chiara, che l'Italia rifugia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ma anche la carta dell'ONU su questo campo è chiara, mai usare la guerra. Intanto qui vediamo una bellissima immagine di una Kiev quando c'era la pace, quando c'era la serenità. La serenità, sì. Una città stupenda, una nazione fantastica, vero? Che ha delle ricchezze nel sottosuolo, poi ne parleremo, incredibili, che forse non vengono sfruttate per come dovrebbero essere sfruttate. Perché secondo te? Sì, purtroppo qui sono tutte questioni geopolitiche, certamente, che hanno messo l'Ucraina, soprattutto diciamo nel nuovo millennio, all'inizio del nuovo millennio, in questo limbo fra Occidente e Oriente. Questa è nella Piazza Rossa di Mosca, invece. È una foto che ci hai fornito durante il tuo viaggio. Esattamente, sì, l'ho fatta lì. Bellissimo. E dunque, ecco, l'Ucraina si trova in questo limbo, in questa tensione perenne fra l'Occidente da una parte e la Russia dall'altra e a un certo punto questa tensione è sfociata appunto in questa guerra tragica per milioni di persone. Senti, Alessandro, noi questa guerra la percepiamo in maniera diversa da altre che si sono succedute negli anni. Cioè, ce la sentiamo molto più addosso. Ma questo anche perché il popolo ucraino comunque lo pensiamo già comunque sotto un aspetto europeo oppure perché c'è una vicinanza geografica che comunque ci fa preoccupare. Perché la percepiamo in maniera diversa, a tuo avviso? Allora, sicuramente come percezione è perché noi siamo molto vicini all'Ucraina. Da questa mappa noi vediamo bene che il punto più a occidente dell'Ucraina e il punto più a oriente dell'Italia è più vicino che il punto più a nord dell'Italia e il punto più a sud dell'Italia. Noi siamo molto vicini al paese. Chiaramente abbiamo paura, abbiamo paura perché qui si fronteggiano una nazione nucleare come la Federazione Russa, l'Ucraina che non è nucleare ma che è sostenuta, appoggiata dall'Occidente con gli Stati Uniti in testa che sono un'altra potenza nucleare. Quando inizia una guerra chiaramente uno sconto sappiamo da dove parte ma non sappiamo poi effettivamente mai dove arriva. E quindi il rischio purtroppo anche di una terza guerra mondiale esiste. Non è la prima opzione chiaramente, però un rischio c'è, un incidente, un errore di calcolo. Abbiamo tanti paesi che fanno parte della Nato, che confinano con l'Ucraina a partire dalla Polonia. Dunque il rischio effettivamente di uno scontro poi diretto c'è. Speriamo chiaramente che non si arrivi a tanto e che i colloqui, il secondo round di colloqui c'è proprio questa mattina mentre noi parliamo, speriamo che portino a qualcosa di positivo. Il primo round effettivamente ha portato a nulla di fatto, però dopo giorni dove la voce delle armi aveva parlato, stop, in questo momento già un dialogo diretto fra le autorità di Kiev e le autorità di Mosca è un fattore positivo e che dà speranza. Allora la nazione bellica non è mai giustificabile, però Putin di che cosa ha avuto paura? Ha avuto paura che l'Ucraina diventasse una postazione Nato? Allora diciamo le tensioni federazione russa occidente partano già dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Noi siamo passati nel 1991 da avere un mondo bipolare, cioè due forze, due aree che si contrapponevano, entrambe nucleari, l'Unione Sovietica da una parte e gli Stati Uniti dall'altra, che si fronteggiavano e in qualche modo si era polarizzato lo scontro. Si parla appunto di guerra fredda. Con la caduta dell'Unione Sovietica si sono un po' rimescolate le carte. È sorto un mondo unipolare, cioè un solo polo forte, quello degli Stati Uniti, che sostanzialmente faceva da gendarme del mondo e in particolar modo nei paesi ex Unione Sovietica, nell'Europa dell'Est vicino alla Russia, si è creato caos, dal primo punto si è creato caos. Secondo problema sostanziale, la Nato, che è l'organizzazione che raggruppa il Nord America e vari paesi dell'Europa occidentale, ha deciso di allargarsi, approfittando anche per certi versi della debolezza russa. Una Russia che negli ultimi dieci anni del Novecento era debole economicamente, debole geopoliticamente e la Nato si è espansa fino ad arrivare ai paesi baltici, Lettonia, Estonia, Litoria. Che un tempo era impensabile che questo accadesse. Totalmente impensabile. Invece il fatto atlantico si è allargato. E Putin ovviamente non ha visto di buon grado questo allargamento. Ecco, questa è una foto che praticamente fissa, no? La situazione di votazione all'ONU soltanto in cinque stati hanno votato contro. Sì, ieri diciamo si è votato appunto sull'aggressione della Russia all'Ucraina. e ci sono stati 141 voti appunto che hanno condannato la Russia. Cinque voti contrari che sono in qualche modo proprio gli alleati strettissimi della Russia. Stornano un po' situazioni legate all'Eritrea, anche alla Siria, però sono abbastanza comprensibili da un punto di vista militare. La cosa più interessante qui sono le 34 astensioni, fra le quali appunto spicca la Cina. Perché la Cina? La Cina perché ora si trova in una situazione da un lato positiva per lei. Perché? Perché dal 2008 circa gli Stati Uniti hanno visto nella Cina il principale competitor geopolitico a livello mondiale. Dunque questo scontro fra Nato e Russia da un certo punto di vista allenta le tensioni verso la Cina, rende un po' più libera lì da fiato, però dall'altro la Cina punta su un principio fondamentale che è quello dell'immodificabilità delle frontiere di uno Stato. Perché? Perché la Cina all'interno del proprio territorio ha almeno due situazioni critiche da questo punto di vista. lo Xinjiang, dove c'è una forte presenza uigura, musulmana, che in qualche modo vorrebbe l'indipendenza, e poi l'altro ago nella pelle che è il Tibet, chiaramente. Quindi non vuole far passare l'idea che si possano modificare le frontiere. Dall'altra parte non può rompere con la Russia, per il semplice fatto che c'è una competizione forte con gli Stati Uniti, in primi se la Russia è dalla sua parte e dall'altra parte perché viene rifornita di materie prime fondamentali per l'economia cinese, che ricordiamo è in espansione. Queste tue considerazioni non ci fanno stare tranquilli, ma soprattutto non ci fa stare tranquillo l'attuale situazione. Io sono abbastanza scettico su quelli che vengono definiti i colloqui, per trovare una mediazione perché le armi continuano a tuonare, i morti purtroppo si contano a centinaia, sia tra i civili, tanti bambini che stanno soffrendo, che sono morti, ma anche tra i militari, addirittura sembra che anche le forze russe abbiano tantissime perdine. Ovviamente questo non lo sapremo mai ufficialmente dal cremellino, però notizie da parte di coloro che sono là come inviati speciali e che stanno facendo un grandissimo lavoro e che sono in prima linea. A questo punto però, Alessandro, ti chiederei un attimo di pausa perché vorremmo andare a sentire alcune testimonianze che abbiamo raccolto, la prima delle quali proprio da una donna ucraina che è qua a Siena, che vive a Siena da diverso tempo. Il suo nome è Oksana, che ringraziamo per averci dato questa opportunità. All'inizio era molto restia nel voler parlare, nel voler raccontare perché mi ha confidato, io la prima parola che dico mi metto a piangere. Allora poi ci siamo fatti forza a vicenda e abbiamo raccolto questa testimonianza che adesso andiamo a sentire. Lo ha fatto con un filo di voce, strozzata dall'emozione e dal dolore, ma lo ha fatto. Sentiamo. Oksana, da molti anni qui a Siena, sempre molto legata alla tua terra, all'Ucraina, quanti ricordi, ma quanti dolori. In questo momento così particolare tu hai la tua famiglia, i tuoi genitori là, sono molto distanti da dove si combatte? La mia mamma e il mio babbo si trovano in campagna, quindi la campagna per ora non è stata toccata. A quanti chilometri da Kiev abitano? Anche 600 chilometri. In una zona quindi dove ancora non si sentono i rumori della guerra. Però passano dei missili, come si possono chiamare, sentono, sentono, il movimento c'è. E immaginiamo anche che siano dei momenti di angoscia, di forte angoscia. Quello sicuramente, non tanto per loro, quanto anche per mio fratello, che insieme a suo figlio purtroppo si trovano lì. Ecco, mi raccontavi che sono coinvolti, no? In guerra si sono arruolate, quindi addirittura uno nel corpo di polizia e comunque adesso sono tutti operativi. Tutti e due. Forse per mio nipote è anche la prima esperienza perché ha finito l'accademia della polizia da pochi mesi. Riesci a metterti in contatto con loro? Messaggiando. Messaggiando. Messaggiando anche perché non saprei nemmeno cosa chiedergli. Basta che è un segnale di vita. È questo che importa in questo momento. Che idea ti sei fatta di questa guerra, Oksana? Un'idea? Non mi sono fatta, ma nemmeno se non accendo la tv, devo essere sincera, non riesco a realizzare che sta accadendo. Ancora non ci vuoi credere? Guardo la tv e credo che nessuno di noi avrebbe potuto immaginare una cosa simile. Però mi dicevi che comunque i rapporti con la Russia non sono mai stati facili, vero? Non ci, ma questo si sa. Ormai sono decenni, se non di più. Io posso parlare dell'esperienza mia che ho anche 40 anni e passa. E da quanto è che sei a Siena? 20 anni. 20 anni. Perché sei venuta a Siena? Perché questa decisione di lasciare la tua terra per venire qua? Perché sono stati tempi duri. Ormai siamo abituati a tempi duri. E' un popolo comunque che ha sempre avuto le batoste, sempre ringraziando il grande fratello, come si chiama, perché dopo il crollo dell'Unione Sovietica c'è stato anche un crollo fallimento totale dello Stato. Ma una nazione così ricca come l'Ucraina, perché c'è tantissime risorse nel sottosuolo, eppure però il reddito pro capite è molto basso. Quindi tu sei venuta a Siena per aiutare la tua famiglia ad andare avanti, mandavi delle risorse, delle sostanze. Le intenzioni erano di venire qui come della maggior parte di tutti i nostri, per un anno o due, giusto per tornare a casa. E invece la tua storia è stata diversa? Sì, la mia è stata diversa. Tanti altri hanno continuato per aiutare i figli a studiare. Poi tu ti sei fatta una famiglia qua in Italia, a Siena, e quindi sei rimasta ancorata a questo nostro territorio. E così ti accadono le cose inaspettate, non cercate. Hai cercato anche di portare i tuoi genitori qua, vero? Sì, sono rimasti più ad aiutare con i bambini. Quando avevi i bambini piccoli? Sì, sì. Ti davano una mano, però poi sono tornati... Sono rimasti fissi praticamente 5-6 anni. Però poi sono tornati a casa loro? Sì, sono tornati a casa loro, sì. Quanto è che non vai a trovarli? No, ci sei stata quest'estate. Ci sei stata quest'estate? Ci sono state, non capita spesso, ma forse per impegno di lavoro, ma appena si può si va. E quest'estate nessuno poteva immaginarsi che sarebbe poi successo questa tragedia? Ma nemmeno un giorno prima. Ma nemmeno un giorno prima. Cioè, sì, lo sapevamo di tutti gli anni che lui ha posizionato nei confini, ma che arrivasse così a tanto, questo no. È una cosa disumana. Non se l'aspettava nessuno, però il timore c'era e purtroppo poi la guerra è scoppiata. C'era, ma comunque non arrivi il giorno d'oggi. Non arrivi a questo. Non puoi... Cioè... Siamo un popolo che è pacifico. Voi siete un popolo pacifico? No, è pacifico. Siete un popolo pacifico. Ha superato tante di quelle difficoltà, sempre in silenzio, sempre invocandosi le maniche, andando avanti senza piangersi mai addosso, desiderando solo il futuro migliore per i figli, per noi stessi, e la libertà. E quello che ti vogliono privare è la libertà. E non si tocca, perché è stata conquistata trent'anni fa con tanto, tanto, tanta, tanta fatica. E di San Luis è già versato tantissimo in otto anni, perché non è una cosa che è iniziata ieri e né altro ieri. È una cosa che dura da otto anni. E sono morti tanti giovani, determinati, perché vogliono un futuro migliore. Perché chi non conosce quello che si è vissuto noi, io non entro nella politica, perché non entro... Ma chi non conosce la nostra storia fa fatica a immaginare cosa si è vissuto. Bisogna provare per credere. Anche se i nostri giovani non hanno vissuto quello che si è vissuto i nostri genitori, anche la mia generazione ha toccato per una bella fetta. ti porta a desiderare un po' di libertà, indipendenza, tutto quello di cui gode tutte le nazioni europee. Non è tanto. È una cosa normale. Non è che si pretende chissà che cosa. è vero. Però anche non sottostare... Se lo stanno chiedendo in molti, quello che ti stai chiedendo a te, se lo stanno chiedendo in molti, purtroppo ci sono varie risposte. La risposta della Russia, di Putin, è stata quella di aggredire un popolo che... siete un bel popolo, siete della bella gente, siamo stati al negozio in Via dei Gazzani dove ci sono tantissime tue connazionali che si stanno dando un grande affare per iscatolare, per preparare, per mandare quindi... È minimo, perché ognuno che è qui o ha il marito o il figlio o il fratello o ha uno o due o tre familiari dalla famiglia che sono lì a combattere e da un momento all'altro gli mandi un messaggio e non sai se ti arriva la risposta. Tu hai molte amiche qua a Siena, vero, della tua terra? Vi sentite? Vi state sentendo? Sì. Ormai ci siamo... Come si possa dire, siamo due, tre, quattro famiglie che quando manteniamo rapporto... Senti, Oksana... Nessuno avrebbe potuto immaginare una cosa così. Senti, Oksana, riuscite anche a pregare? Sì. Può essere, può bastare? Guarda, fidati che ci sono i nostri militari che mandano dei messaggi e dicono noi percepiamo le nostre preghiere perché ci sono i proiettili che passano accanto e tutto questo è grazie alle preghiere di tutte le mamme. Sì. Ognuno prega a modo suo. Non è necessariamente in chiesa. Certo. Però... ognuno prega a modo suo e fa. Senti, la speranza come si dice è sempre l'ultima a morire. Ci auguriamo davvero che questa guerra possa concludersi quanto prima. Io sono... docciosa tanto però forse non sarà più come prima anche in Ucraina. Sarà meglio. Sarà meglio. Sarà meglio. Sarà meglio e... tutti i nostri giovani ragazzi perché per lo più sono giovani ragazzi che sono morti per una causa giusta e la libertà e... non c'è altro. Si deve vincere e si vincerà e sarà meglio. L'ultima cosa. Credo che non combatta soltanto per sé stesso ma anche per tutta l'Europa. È così. E anche per il desiderio che ha sempre voluto. di entrare nell'Europa di vedere un po' di mondo migliore più aperto e quindi io credo credo in quello che credono tutti i nostri ragazzi che sono in prima linea e se lo meritano e devono vincere e vinceranno. che tipo di commento possiamo fare dopo questa testimonianza pensate un po' alla sofferenza di questa donna Oksana che è qua a più di 2000 km più o meno da tutto quello che sta sconvolgendo la terra ucraina pensiamo a quello che vivono tutti coloro che si trovano nel centro di questa situazione. Alessandro ma che cosa e chi può fermare Putin a questo punto? Questa testimonianza è veramente toccante bella di una donna di una madre di una figlia che chiaramente spera nella pace che poi alla fine l'aspirazione di tutti i popoli del mondo è la pace il benessere la tranquillità di poter passare in questa vita un po' di un po' di un po' di belle cose ecco. Senti Alessandro sembra quasi un controsenso però per avere la pace bisogna che le nazioni si armino per contrapporre e per cercare e trovare quindi determinati equilibri ma è una cosa folle questa oppure è una cosa indispensabile a tuo modo di vedere? Il mondo purtroppo non è il paradiso il mondo è fatto di uomini con i loro errori le loro pecche le loro difficoltà la verità è che la deterrenza nucleare perché in questo caso noi parliamo di questo purtroppo grandi potenze che hanno le capacità nucleari in qualche modo riescano a fronteggiarsi senza scontrarsi almeno finora è stato così perché? perché c'è paura della distruzione totale di tutto e quindi quel famoso equilibrio è un equilibrio di potenza che forse forse dico può in qualche maniera dovrebbe garantire garantire la pace anche se come abbiamo detto prima e si può ribadire tranquillamente quando veramente ci si tocca siamo a un metro a un centimetro dal rischio di conflitto per un piccolo errore per un chiaramente quando due potenze nucleari si vanno a scontrare l'utilizzo poi di quell'arma è possibile quindi quello che bisogna fare quello che bisogna sperare soprattutto perché noi purtroppo noi come popolo anche abbiamo poco da poco da fare quello che bisogna sperare in chi ci comanda è che si fermino il prima possibile che trovino un accordo ok dunque anche a Siena c'è stata una grande solidarietà con il popolo ucraino un'attività commerciale che è nata da pochi mesi in via dei Gazzani quindi proprio vicino ai giardini della Lizza praticamente è stato il fulcro di questa manifestazione di solidarietà tantissimi sienesi si sono recati lì per portare indumenti coperte giacconi per i bambini ma anche medicinali soprattutto medicinali e anche alimenti in scatola lunga conservazione latte in polvere eccetera c'è stata una grandissima gara di solidarietà e questo fa bene pur nella sofferenza è un aspetto molto importante allora con Elena Cardaioli siamo proprio andati lì in via dei Gazzani per capire meglio che cosa sta succedendo e che cosa anima queste persone queste figure che anche a distanza tendono una mano ai propri concittadini sentiamo grazie a tutti siamo qui in compagnia di Vittoria che è una ragazza in questo momento impegnata come volontaria nel negozio in via dei Gazzani dove è in corso una grande raccolta molto per fortuna molto generosa in realtà neanche ce l'aspettavamo ma è veramente una mano dal cielo perché in questo momento ci sono veramente tante persone che sono rimaste senza niente totalmente e da dove vieni io vengo da Ivano Frankivsk che comunque è una città fino al Viv che è più verso la Polonia quindi diciamo la mia città non è stata toccata come quella della mamma che è di Ternopil però diciamo la mia cugina che era comunque Ivano Frankivsk che vive vicino all'aeroporto quando è scoppiato il missile l'hanno sentito si sono rotti tutti i vetri di casa quindi diciamo hai chiaramente parenti e amici in questo momento si ho parenti e amici il mio padre è in guerra ora è a Kiev e lui ha fatto militare per una vita quindi ha 11 anni di esperienza quindi lui l'hanno tramato subito mi scrive ogni mattina dicendo oggi sono vivo ecco questo è scusate non è per niente sempre e quindi diciamo che noi da qui cosa possiamo fare allora da qui da questo punto all'inizio apprendevamo di tutto cercavamo di suddividere tutto nei vari cartoni dai vestiti soprattutto per i bambini perché in questo momento ci sono tanti bambini che soffrono perché sono nei bunker o comunque nelle cantine di case e quindi cemento armato freddo poi se qui è freddo là è il doppio freddo e quindi dai vestiti pesanti per bambini alle coperte ai neonati perché ci sono in questi giorni dei bambini nati in questi bunker e quindi abbiamo fatto una raccolta di latte latte secco per un polvere gli omogenizzati di tutto quello che possiamo suddividiamo per età 0-6 mesi neonati da un anno a tre anni e poi ho visto anche in questo momento tantissime medicinali tantissime medicine perché una cosa primaria di cui in questo momento necessitiamo sono le medicine di tutto dai coagulanti per il sangue ai disinfettanti alle gardi ai cerotti antibiotici anche per mal di gola certo qualsiasi cosa ecco toglici appunto la curiosità ma insomma perché è importante saperlo da qui poi queste cose tutte raccolte vengono mandate mi dicevi a Roma sì vengono mandate a Roma non tutte vengono mandate a Roma quei autisti che noi conosciamo da almeno dieci anni che partono da qua da Siena e quindi siamo diciamo in contatto e conosciamo le persone quindi sono di fiducia loro partono direttamente da qua e vanno in Ucraina al Vib e dal Vib poi soprattutto i giovani ragazzi con le loro macchine partono e vanno nelle varie città dove non arriviamo come per esempio ora Kiev e Kharkiv che sono sotto attacco arrivano direttamente i militari con il loro camion a prendere quello che possono di parte di questa roba va anche alla Croce Rossa italiana sì perché la maggior parte delle cose perché gli autisti di fiducia diciamo possono essere due o tre ma il tempo del viaggio che sono più di due giorni e il ritorno il tempo si perde tutto il resto che noi suddividiamo e quindi scriviamo con le varie etichette lo mandiamo a Roma da Roma è un'organizzazione della chiesa greco-cattolica con la Croce Rossa anche italiana che partono con i camion da Roma e arrivano comunque sempre al live e poi si suddividono diciamo in Ucraina in questo momento tutti stanno dando una mano dai giovani ai ragazzi che sono studenti che prendono la loro macchina con i rischi e i posti di blocco e tutto e cercano di portare dove possono le cose dai piccoli paesini anche dove le persone stanno bene stanno riunendo nelle scuole stanno facendo panini per i soldati alcuni vanno a fare i posti di blocco ognuno fa quel piccolo che riesce a fare anche in Polonia anche in Polonia sì in Polonia tutte le persone comunque polacche sono via la frontiera mettono i cartelli quante persone possono uscitare è veramente sì no fortunatamente c'è stata una grande solidarietà sì una solidarietà enorme l'unica cosa in questo momento quello che possiamo fare perché come io ho detto per i primi tre giorni sono stata a piangere dalla mattina alla sera di notte non dormivo e poi ho detto bene che cosa posso fare certo allora ho detto se posso dare una mano in qualche cosa lo faccio penso che la stessa cosa abbiano pensato tutte le altre persone sì penso di sì perché appunto anche a Siena fortunatamente c'è stata un tantam incredibile di persone faccia appunto che mi abbiano chiamato tantissime persone che magari non sentivo da anni e mi sono sorpresa mi hanno chiesto come possiamo aiutare quindi veramente c'è stata una grande solidarietà da parte di tutti veramente un ringraziamento da parte mia e di tutto il nostro popolo perché purtroppo ci serve tanto in questo momento però credo appunto faccia felice anche noi che veramente siamo a terra e forti e attoniti di fronte a quello che sta capitando sì e solo il fatto di poterti sentire minimamente utili in qualche modo ci dà un minimo di sogge noi apprezziamo davvero tanto per dire la mamma ieri è andata a comprare le medicine e la farmacia le ha detto no 100 euro le mettiamo noi e le doniamo quindi dalle piccole cose vediamo che la comunità è veramente unita in questa disgrazia sì quindi invitiamo quindi le persone a continuare sì noi finché possiamo lo facciamo poi non sappiamo se domani ci dicono no le frontiere arriviamo del tutto perché c'è un rischio elevato e quindi non possiamo più finché possiamo ci saranno anche tanti diciamo persone che saranno magari arrivate in Polonia in altri paesi e quindi poi ci sarà modo di arrivare anche lì per esempio per dire le caramelle per i bambini non le mandiamo ora le teniamo quando arriveranno qui e le avranno comunque bisogno alcune cose le teniamo qui come la pasta perché in realtà lì non hanno tempo per fare la pasta non hanno tempo di cucinare quindi si mandano i ceci già in scatola che un soldato può prenderli a mangiarli quindi diciamo che comunque purtroppo ci sarà in ogni caso bisogno anche in seguito quindi sì sicuramente se non è per l'Ucraina perché gli ucraini arriveranno qui le famiglie e altri paesi europei comunque sì d'accordo noi ti ringraziamo Vettora grazie mille davvero per il vostro gesto è stato molto apprezzato speriamo che ci rischia prima possibile perché l'unica speranza delle persone che vanno a letto la notte dicono ma domani ci sveglieremo oppure no quindi speriamo di noi speriamo di trovarsi magari tra pochissimo e venire invece a veramente noi lo speriamo e grazie mille davvero per la comunità e per il vostro gesto grazie grazie mille nessuno si sarebbe aspettato questa mobilitazione questa sensibilizzazione comune lo abbiamo sentito dalla testimonianza di Vittoria che ringraziamo ringraziamo Elena così come ringraziamo Xana sono parole che toccano Alessandro che fanno riflettere però a questo punto mi corre l'obbligo chiederti riguardo al tuo pensiero da analista l'Europa che ruolo può svolgere in tutto questo innanzitutto guarda lasciami dire che queste sono le piccole grandi cose che poi effettivamente servono ad alleviare le sofferenze vere della popolazione che poi alla fine in tutte le guerre quelle che ci rimettano davvero sono le popolazioni i civili l'Europa purtroppo gioca un ruolo molto debole che l'Europa politica sostanzialmente non esiste non esiste in politica estera appunto non ha una politica estera comune così come non esiste un'Europa militare così come non esiste per esempio la famosa difesa comune europea se ne parla da anni da decenni ogni volta sembra magari che ci si possa avvicinare a costruire qualcosa però c'è molta difficoltà perché l'Europa è composta come sappiamo da tanti paesi con sensibilità diverse con necessità diverse con obiettivi strategici diversi tanto è vero quelli che poi si sono impegnati di più per evitare la guerra non sono stati tanto la presidente della commissione europea piuttosto che il responsabile della politica estera europea quanto i singoli capi di governo in particolar modo quello francesi Macron quello tedesco Scholz e anche quello italiano perché comunque Draghi ha una certa credibilità internazionale l'Europa purtroppo ha un ruolo debolissimo da questo punto di vista e invece il presidente ucraino Zelensky conta molto sull'apporto e sull'appoggio dell'Europa nei giorni scorsi ha fatto richiesta proprio di entrare a far parte della comunità europea e qui ci stiamo perdendo nella burocrazia politica che non è così immediata come invece è quella russa che in un battibaleno ha annesso due repubblichine lì due territori che sono poi strategici diciamocelo tranquillamente è tutta un'altra storia quindi tutta un'altra storia per la precisione non li ha annessi ma li ha riconosciuti come indipendenti detto questo la Russia è un paese unico ha un capo di governo unico come tutti i paesi del mondo come gli Stati Uniti d'America che hanno appunto un presidente unico purtroppo appunto l'Europa è stata costruita dal punto di vista economico monetario e nemmeno del tutto però la cosa vera la cosa forte che farebbe fare il salto di qualità è questa unione politica che tarda ad arrivare e molto probabilmente non ci sarà nemmeno davanti a una situazione del genere perché a livello pubblico magari magari tutti tendono a remare dalla stessa parte tendono a mostrarsi uniti ma poi nella realtà la situazione è diversa insomma ecco purtroppo la situazione è questa oltretutto la Brexit non ha dato certamente più credibilità alla comunità europea anzi l'ha in qualche maniera indebolita l'ha indebolita da un certo di base esattamente sì senti da un punto di vista proprio bellico ma una domanda che ti vorrei fare c'è stata una grandissima azione di terra ci sono anche le forze navali lì pronte comunque a intervenire non si vola in cielo con le bombe con i missili così come perlomeno ci aspettavamo il perché di questa strategia allora diciamo la Russia ha agito così la Russia prima di tutto ha fatto una fortissima azione aerea che è all'inizio della guerra cercando in questo modo di neutralizzare il più possibile le difese militari di terra militari dell'Ucraina e tant'è vero in grande parte c'è riuscita è arrivata fino a Leopoli la signora prima la ragazza prima parla di Lviv noi si chiama Leopoli questa città è la più grande città occidente dell'Ucraina ai confini con la Polonia molto importante ma molto distante dall'est dell'Ucraina però sono andate a bombardare anche lì chiaramente dopo è iniziata questa offensiva di terra che doveva finire secondo i piani russi nel giro di pochissimi giorni e invece si sta prolungando questo grazie alla resistenza che sta offrendo vero il popolo certamente grazie alla resistenza che ha richiamato ma non ce n'era bisogno forse perché i volontari sono stati così generosi nell'andare subito a riarmarsi per difendere il proprio comune la propria strada la propria casa e quindi questo è molto bello pur nella tristezza della guerra però c'è stata questa reazione incredibile che forse i russi non si aspettavano Putin non si aspettava ma comunque gli strateghi avevano forse messo in conto ma a tuo modo di vedere al cremlino Putin a tutti con sé o incomincia qualcosa a scricchiolare guarda innanzitutto c'è da dire che più ci si sposta verso ovest dell'Ucraina e più chiaramente i filorussi chiamiamoli così per semplificare sono meno e quindi chiaramente una resistenza è certamente più 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 forte al cremlino ad oggi diciamo la leadership di Putin non credo che sia in dubbio perché effettivamente ha tanto potere in mano tanti oligarchi che sono poi tutte quelle persone che si sono arricchite grazie a lui gli devano tanto gli devano tutto e detto questo ma che ora forse rischiano di impoverirsi grazie a lui esatto detto questo c'è da dire che una guerra se prolungata nel tempo tenderà certamente ad impoverirli significativamente anche il governo russo certamente al suo interno comunque l'elite russa politica è divisa fra Falchi e Colombe possiamo chiamarli così e dunque certamente qualche scricchiolio ci sarà dipenderà tutto come andrà a finire poi effettivamente questa situazione se lui potrà dire in qualche modo di uscirne vincitore oppure se effettivamente sarà una debacle e a quel punto la sua leadership sarà effettivamente in grave crisi l'ultima battuta Alessandro ci sarà un prezzo da pagare comunque l'Ucraina lo sta già pagando enormemente ma ci sta anche il caso che per raggiungere un accordo quindi una tregua e forse anche la pace l'Ucraina dovrà sottomersi a determinate condizioni come quella per esempio della smilitarizzazione del territorio secondo te questa è una cosa che può avvenire così pacificamente diciamo oppure ci saranno delle resistenze quindi anche dal fronte opposto mi riferisco agli Stati Uniti e alla Nato eccetera anche in Ucraina senza altro ci sono delle forze che remano verso uno scontro totale con la Russia per difendersi e per lottare effettivamente contro la Russia fino all'ultimo secondo e persone sono un po' più moderate che cercano in qualche modo di arrivare ad un compromesso seppure a ribasso per lei rispetto alle aspettative iniziali però cercando appunto di fermare questa guerra il prima possibile l'accordo si può trovare senza altro tutte le parti Ucraina Russia e Occidente con la guida agli Stati Uniti devono cedere qualcosa devono concedere qualcosa e quale sarà l'accordo finale chiaramente non lo sappiamo però ci speriamo dai ci speriamo tanto per questa gente per la pace del mondo per tutta l'umanità se la regia può riproporre la copertina del libro scritto da Alessandro Fanetti che almeno poi formano l'ultima domanda da Alessandro è un libro che leggeremo con molto interesse ma se tu adesso lo dovessi riscrivere cambieresti qualche cosa nei vari capitoli che lo compongono ma guarda quello che io tratto diciamo nel libro sono questioni che non vanno poi a toccare specificatamente dei punti precisi chiaramente un capitoletto sulla guerra in Ucraina sarebbe opportuno però c'è da dire che in generale quello che si vede con la guerra in Ucraina che a noi ci tocca molto da vicino e quindi ne siamo più preoccupati purtroppo le guerre ci sono state anche negli anni passati e lo scontro che è in atto quello mi fa piacere dire diciamo prima di concludere questa nostra bella chiacchierata lo scontro che è in atto oggi e la guerra in Ucraina anche si inserisce proprio in questo contesto è fra in qualche modo il tentativo di mantenere il mondo unipolare che viene fatto soprattutto dagli Stati Uniti e dalla Nato con altre forze altre potenze globali vedi Russia e Cina o regionali vedi Turchia vedi India che cercano di costruire un mondo multipolare quindi purtroppo questi scontri ci sono stati ci sono vedi Ucraina e ci saranno in futuro tutto sta a vedere se per ogni scontro si riuscirà a trovare un punto di caduta un punto di accordo perché ognuno conceda qualcosa oppure se non ci arriveremo se non ci arriveremo purtroppo sarà la terza guerra mondiale e nessuno se l'augura ovviamente purtroppo caro Alessandro non ci saranno forse più storie da raccontare esatto vabbè cerchiamo di pensare in positivo cerchiamo di avere tanta fiducia cerchiamo di fare tutto quello che è possibile per per credere in una risoluzione di questo conflitto che sta arrecando tanto dolore tante tragedie che purtroppo la gente del luogo sta vivendo bene cari amici abbiamo quest'oggi raccontato una storia che non avremmo mai voluto raccontare però ringraziamo Alessandro per la sua partecipazione ringraziamo Oksana e Victoria per le loro testimonianze davvero commoventi ringraziamo Elena Cardaioli preziosa collaboratrice ringraziamo tutti voi cari amiche e cari amici di Siena TV per averci seguito in questa nuova puntata di storie da raccontare speriamo vivamente che dalla prossima possa ritornare il sorriso su tutti noi grazie grazie